Il massaggio può aiutarci a risvegliare il nostro medico interiore, ma cosa vuol dire? Il massaggio ci distacca dalla frenesia esterna e ci mette in contatto con il nostro mondo interno e con i suoi bisogni. È come se la mano dell'operatore guidasse la persona in un viaggio dentro di sé, andando ad esplorare ogni organo e dando voce alle loro esigenze. Il cliente quindi si va a focalizzare sul proprio corpo fisico, sulle emozioni, su eventuali dolori o malesseri, in modo che si renda consapevole dove non va qualcosa. Quindi il massaggio è un alleato, una pratica per far stimolare nel cliente l'ascolto del proprio corpo e il processo di autoguarigione. E da qui il medico interiore. Quindi con un po' di attenzione puoi utilizzare il massaggio per migliorare la tua salute generale e ascoltare i messaggi che il tuo corpo ti dà.